Se sei felice tu lo sai batti le mani Se sei felice tu lo sai batti le mani Se sei felice tu Batti le mani Basta No, cambiamo canzone ogni tanto Ora ci siamo Ciao ragazzi bentornati qui sul mio canale Come sempre è Drake che vi parla E oggi ragazzi siamo qui sul secondo episodio Di disagio Su facebook Ragazzi vi do 10 secondi di tempo per prendere i popcorn E poi iniziamo il video 1 2 3 Iniziamo Allora iniziamo subito con un post scritto da un ragazzo E molto 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 carino Che scrive sulla pagina i fan di FabiJ Allora inizia dicendo Bela Bela Basta basta Bela tutto ragazzi Questo perché Giusto E Il mio Kane Kane Il giocatore del Totterham Si chiama Con la K ovviamente Fufi Che c'è Fufi Che è successo a Gato Fufi? No Q N T E Ovviamente ancora senza accento Perché metterla l'accento B L L Che ragazzi Ha un significato molto importante Significa Basta levare l'accento Perché appunto ragazzi Cosa è successo? Hanno pulito l'accento dalle E Del verbo essere E quindi Lui l'ha scritto In una breveazione Che sarebbe B L L Che sarebbe basta levare l'accento E quindi ti aiuta a facilitare La scrittura Si che leggo cazzate Ma io dico ancora più cazzate Delle cazzate Che sto leggendo Guarda siamo in una conversazione Tra due ragazzi E regia voglio il Tug Life Di sottofondo Perfetto OI Gatigno Ma che cazzo hai detto? Voce ed è Roma Non te capisco Ciao E un ao Tentendo E allora Pigatela nel culo Ok forse Ora c'è un altro post Ehm No Non voglio neanche commentarlo Perché c'è c'è regà Allora I tre mafiosi di Treviglio Ha 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 Spuntano questi E ragazzi C'è regà In realtà erano quattro Però quello sinistra Se l'è mangiato Saluto Adoni Ora ragazzi Vediamo un post Scritto da Un ragazzo Che riassume La sua vita In In una frase E ci sta Ci sta Dice Sesso Droga E rock and roll Allora Tu a cinque anni Scrivi Sesso Droga E rock and roll Io invece A cinque anni Sai cosa facevo? Nanna Papa E dragon ball Chi sei Goku Non lo sai Però Presto lo scoprirai E poi Figli Non ne ha Mamma mia Che infanzia Ora per interpretare Questo post Scritto su facebook Chiamo il mio amico Mohamed Perché Ha più accento Diciamo Mohamed Ti goda di una cosa Fai de male Ricevi de male Fai de bene Ricevi de bene Io ho fatto de male E sto ricevendo de male Ma basta e comincia Ma vera il tuo giorno Tu de male Perché anche tu vicino a me Hai fatto de male Ma Gesù Già ti ha castigata Fili Non puoi averli Posso avere ora il mio fumo? Fumo fumo Ma quanto l'adoro quel ragazzo Quanto Quanto Legge un'esplosione a caso Ultimo post Del video Chi ha Paura di sognare Destinato a morire Io mi sa che sono destinato a morire Per ragazza Che sto leggendo Regia Momento Past and Furious When I see you again I'll die I'll die I love me No